Le mie complessità erano legate al fatto che, avendo già un'agenzia da più di 15 anni, quindi da 16 anni, mi sembrava quasi dispersonalizzarmi per alcuni aspetti. Gli affari sono sempre andati bene. Avevo poca fiducia nei franchising in realtà, perché pensavo che ti legassero troppo e ti dessero poca autonomia, cosa che invece io ho sempre voluto, perché ho sempre lavorato in autonomia. La Pesca ci ha contattato nel 2019. Verso la fine del 2020, la decisione, l'idea di entrare a far parte del nostro gruppo. Da pochi giorni dopo la firma ho dovuto fare un passo indietro e riflettere perché ho notato che effettivamente il lavoro è diventato molto più fluido, molto più snello. Devo dire che è arrivato a moli di lavoro molto superiori a quella che già avevo, che era importante. Soprattutto nell'acquisizione degli incarichi. Tra l'altro ho riscontrato anche una presenza molto importante del gruppo. I riscontri sono, esistono e sono reali. Sono super soddisfatta.